Sabato 1 gennaio 2022. Le stesse abitudini del vecchio anno otterranno in te gli stessi risultati anche nel nuovo anno. Cambia qualcosa o non cambierà nulla. Ma ciao! Ciao a tutti! E buon 2022! Buon inizio! Buon inizio! Benissimo! Allora questa è la mia faccia a poche ore dallo scoccare della mezzanotte e del 2022. Benissimo, sì, benissimo direi, ma tanto non è che è molto differente dalla mia solita faccia normale, nel senso c'è alla fine è sempre quella, eh? E ragazzi ho detto qual buon mood, buona cosa se non iniziare a fare un video parlando con voi. E quindi io sono anche presa di gola, ragazzi, quindi non fateci caso se ogni tanto ho la rantega, ma devo rantegare perché sennò non riesco né a respirare né tantomeno a parlare. Quindi per me la cosa è abbastanza complicata se ho qualche impedimento nel parlare perché non riesco a esprimermi, non riesco, avete capito, a comunicare con voi in principal modo. E quindi niente, sapete che io non sono tanto per gli auguri, non sono neanche tanto per capodanno, però diciamo che è passato, diciamo che alla fine è passato anche in una maniera abbastanza positiva, cioè nel senso senza avere nessun tipo di aspettativa o niente di che, comunque insomma ho mandato, ho anche mangiato, devo dire anche bene, cioè nel senso non avevo quella chiusura di stomaco, non avevo quella cosa che mi capita solitamente a me nelle feste. Sia questo Natale che questo Capodanno insomma ero abbastanza in mood buono, quindi diciamo in good vibes e tra l'altro solitamente che io basta che ho appunto un raffreddore o un mal di gola non mi va giù praticamente niente, manco, non lo so, solitamente faccio fatica, facevo fatica, anche a ingoiare un pavisino facendomelo sciogliere leggermente in bocca, adesso anche con il mal di gola, ho avuto una fame bestia, ho mangiato, mi sono svegliata stamattina con una voglia di mangiare di nuovo e cioè nel senso quindi sì, cioè sì, stranamente diciamo è stato un po' strange, un po' così, un po' strano, un po' però sì, sì, ci piace e quindi ragazzi ho fatto tardi ma solitamente quando c'è il grande fratello insomma ci capita molto molto spesso, non dico tutti i giorni però è una routine abbastanza di fare tardi, quindi magari sì dormiamo, ci addormentiamo sul divano però non andiamo a letto presto ecco e questa notte, cioè diciamo questa mattina, tra virgolette erano le 6, cioè quindi sì abbiamo un po' sonecchiato sul divano però erano comunque le 6, io le 6 sorseggiavo coca cola, coca cola e sì, cioè nel senso però, cioè non è stato voglio dire, è stato semplicemente caruccio voglio dire, ovviamente in pigiama, ovviamente senza trucco, senza parrucco, semplice, semplice però comunque bello, senza tanti programmi, senza aver programmato alla fine niente, cioè nel senso avendo comprato due cose l'ultimo, il giorno stesso, il giorno stesso due cose giusto così da mettere in pentola, cioè sì, le cose giuste non abbiamo esagerato perché poi, cioè comunque sia, cioè non ci interessa fare, avete capito, il cenone chissà che cosa, bene, cioè nel senso devo dire, ma la mia idea o sta continuando a scendere il telefono ragazzi e l'inquadratura, va bene, quindi sì, che dire, tante cose, cioè che dire tante cose, tante cose, no ma neanche poche, cioè perché comunque quando uno lo passa semplicemente ma nello stesso tempo bene, quindi in serenità, cioè ecco, sapete che cos'è che mi è piaciuto veramente? Che mi è passato il tempo piacevolmente, cioè nel senso non è che ero lì ogni seconda a guardare l'orologio e dire passerà, è passato? Quanto manca? Non è ancora passato? Ecco, non ho guardato praticamente mai l'orologio e cioè nel senso è stato proprio, se avevo voglia di dormire, dormivo, prima di questa benedetta mezzanotte, dopo, non me ne fregava niente, facevo quello che volevo senza avere il pensiero di dire, oh mezzanotte, non posso dormire, non posso fare questo, no, sono stata proprio libera, cioè solitamente lo sono sempre, però magari avete capito, c'è quel pensierino lì che dice, ma Michela cosa fai, no? Cioè nel senso dormi, ecco invece me ne sono altamente fregata, se avevo voglia di dormire dormivo, se avevo voglia di far pipì facevo pipì e sono stata ovviamente in pigiama, ma nel senso, felicemente no? Di stare in pigiama e felicemente di non truccarmi, nel senso come sono io, no? Nel senso non che gli altri anni magari mi truccavo, però magari poi vedevo tutte le foto, non so, di gente vestite fighe, con i tacchi, con il trucco, avete capito? I capelli piastrati e allora dicevo, ma io perché sono così? Invece no, felicemente sono così, me ne vanto, cioè nel senso a me va così, perché non mi vietava nessuno sennò di truccarmi o piastrarmi, insomma, il ciuffo, perché non ho altro, però insomma avete capito? Cioè no, anche no, quindi ovviamente non ho fatto foto figo, ho fatto foto in pigiama, ma va bene così, cioè sono felice E se lo fece senza nessun tipo di ma perché, ma per come, ma forse, no, chissene E quindi, cioè nel senso, quindi queste sono le cose più belle, e appunto la cosa che mi è passato velocemente il tempo, quindi vuol dire che non sono stata lì a, né ad aspettare che arrivasse, né ad aspettare che finisse, cioè nel senso, in un certo senso, comunque sapete quando dico, oh, meno male, cioè certi anni, quando era mezzanotte 1, dicevo, oh, finalmente, cioè è passato, cioè avete capito? Invece no, quest'anno, cioè non ho avuto la pressione tempistica, no, del tempo, dei minuti, dello scoccare, dell'orologio, non ho fatto nessun tipo di countdown, cioè ci siamo goduti i fuochi d'artificio dalla terrazza, cioè veramente, sono molto entusiasta, ecco, di questa cosa qua, perché non mi è pesato, ecco, non mi è pesato, e ero proprio suavemente tranquilla, e sì, c'erano i fuochi d'artificio belli, era una bella serata, appunto, non è, anche abbastanza tiepida, cioè nel senso, non era un freddo, beh, io magari essendo un po' presa di gola, però non era un freddo, quindi nel senso, anche nella terrazza si stava abbastanza bene, anzi, vi devo dire la verità, che anche in casa, anche quando abbiamo finito il centro, ogni tanto aprivo la finestra, perché sentivo un po' di caldo, no? Ecco, e vabbè, botti ce ne sono stati qualcuno, non parlo proprio di fuochi d'artificio, ma qualche botto sparato così, cioè a caso c'è stato, però neanche tantissimi, quello che devo dire è che Rocco solitamente, vabbè, si va un po' a nascondere, ma Rocco si va a nascondere anche quando vede la bottiglia, perché sa che poi fa lo sparamento del tappo, no? Bruno, Bruno, l'anno scorso, si vede che era tanto piccolo, però l'anno scorso non ha accusato, diciamo, nessun tipo di... quest'anno invece ha avuto molto paura di questi, diciamo, chiamiamoli botti, no? Di questi colpi che sentiva, ha avuto molta paura, infatti ha proprio mantenuto un senso di tachicardia e di affaticamento di respirazione per molto tempo, anche quando non li sentiva più, ovviamente l'ho tranquillizzato, l'ho calmato, voleva venire in braccio, l'ho tenuto in braccio, eccetera, però ha mantenuto appunto il battito alto, no? Quindi io lo chiamo tachicardia, aveva difficoltà, sembrava che respirasse male, no? Lo vedi quando non respira, come posso farvi intendere, come quando uno è molto accaldato, no? Era impaurito, no? Era agitato, ecco, questo stato di agitazione tachicardica l'ha mantenuta anche dopo, nel senso, cioè, proprio, ci ha ci ho messo a tranquillizzarlo, cioè, nel senso, ci ha messo anche lui, prima non stava neanche, era proprio irto così, no? Seduto, sull'attenti, no? Perché aspettava, si controllava in giro, vedeva che cosa poteva succedere, non stava fermo un attimo, eccetera, eccetera, e voleva sempre venire in braccio, poi, piano, 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 col passare del tempo, lentamente, lentamente, si è seduto, stato seduto, ma meno sull'attenti, poi lentamente si è seduto senza stare sull'attenti, poi si è leggermente accasciato, eh, fino a che poi, insomma, si è accoricato, e è stato, e gli è passato, diciamo, praticamente, questo stato compulsivo dell'agitazione, e si è addormentato, felicemente, sul divano, siamo stati lì, tutti accoccolati, tranquilli, però non mi aspettavo una cosa così da lui, nel senso, perché solitamente è quello impavido, quello che proprio, invece proprio gli è presa male, gli è presa male, però, insomma, ecco, cercherò l'ora, la prossima volta, perché è stata una cosa inaspettata, perché da lui proprio zero, anzi, se, devo dire la verità, avevo, ovviamente, una pari accortezza, no, su entrambi, ma, se, eh, dovevo tenere un occhio leggermente un po' più di riguardo, lo tengo per Rocco, solitamente, perché so che ha il fifone di turno, no, cioè, quello proprio che vola la mosca ha paura, no, Bruno, invece, è quello che la mosca se la mangia, cioè, avete capito, non ho mai potuto, cioè, non ho, non ho avuto né mai l'occasione, né avrei mai potuto pensare così, una situazione del genere, invece, mi sono resa conto che è il contrario, perché Rocco si va solamente a mettere, tipo, sotto un tavolo, sotto un mobile, dove è coperto con la testa, no, come se fosse una specie di nicchia, di cuccia, sta lì con lo sguardo impaurito, però sta lì, ne trema, ne fa niente, no, a chi guarda solo con gli occhi spallancati a palla, e sta lì, va a nicchiato coperto, no, cioè, a cuccio, no, invece Bruno, ripeto, scappava, tremava, aveva la respirazione affannosa, voleva venire in braccio, poi riscappava, poi, e non si è calmato neanche dopo, quando non sentiva più i botti, avete capito, quindi è durata tanto, e niente, me lo devo assolutamente ricordare e tenere bene a mente, eventualmente, non lo so, in un'altra occasione del genere, tipo, non lo so, andassimo a vedere dei fuochi d'artificio, qualsiasi cosa del genere, perché, appunto, con Rocco ho sempre fatto quelle dovute accortezze, però, cose del genere, invece con Bruno, visto la sua reazione, assolutamente non voglio farlo più soffrire così, perché poi, insomma, ci ha voluto per farlo tornare nella situation normale, e me è dispiaciuto un casino, ecco, perché non me lo aspettavo, se no, assolutamente avrei voluto evitare. La Leo, invece, come sempre, lei ormai è grande, era nella sua voliera, tranquilla, con l'abaglino chiuso, ovviamente, non ha proferito parola, l'ho controllata, ma lei proprio dormiva, bella beata, se lei è tranquilla nella sua voliera, non, assolutamente, zero, non ha proprio detto a, ma lo so, ormai, lei ormai, diciamo, è grande rispetto, tra virgolette, agli altri due. E quindi, niente, che dire, sì, ho detto, vabbè, faccio, cioè, in realtà, potevo, ho detto, preparo il video per lunedì, no? Però, in realtà, potrei farlo anche, potevo farlo, e potrei farlo anche domani, benissimo, no? Però, ho detto, ma no, cioè, oggi è il primo, e quindi, cioè, voglio farlo oggi, che è il primo effettivo, cioè, sì, che domani va bene lo stesso, non è che scade, voglio dire, però il due già mi piace meno, invece oggi è proprio il primo, e quindi sarà il primo, il primo video, la prima parlata con voi, il primo, il primo, il primo, il primo. Primo gennaio 2022. Mi fa proprio strano, ragazzi, sentire, uno, sentire la parola primo, perché mi viene, mi viene subito così da pensare, oh, mamma mia, il primo giorno dell'anno, mamma mia, quante cose possono succedere a cadere, e succederanno comunque in un anno, mi sembra tantissimo, no? Poi, invece, penso e dico, vabbè, ma poi tutti, come tutti gli anni, bene o male, però alla fine poi passa anche velocemente, no? E poi l'altra cosa che mi fa strano è scrivere 2022, ragazzi, 2022, boh, non lo so, cioè, 2022 mi fa strano, mi fa strano, mi fa strano non tanto come numero, ovviamente, perché un numero poi alla fine, però mi fa strano perché dico, oh, mamma mia, di nuovo anche qua, 2022, 2022, non so, cioè, ecco, non so cosa aspettarmi da questo 2022, in realtà dentro di me, come dentro di noi tutti, abbiamo delle sorte di, non aspettative, ma comunque di pensieri, no? Di, chiamiamole idee, chiamiamole, ma chiamiamole anche aspettative, di desideri, di sogni, di cose, no? Cioè, nella testa ci balena un sacco di pensieri, di cose, di, 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 eh, però, non, cioè, poi alla fine, non, non, non so, cioè, non abbiamo la palla di cristallo, possiamo solo sperare, possiamo solo, eh, andarci incontro, ecco, andarci incontro a questo 2022, cioè, eh, lo voglio proprio rincorrere, lo voglio afferrare, cioè, in un certo senso, appunto, ehm, so che poi alla fine, anche se siamo solo al primo gennaio, poi alla fine è una specie di rincorsa, no? Perché un giorno, eh, trascorre, ne inizia subito un'altra, alla fine è una scia che, che, che prosegue, e, eh, e quasi non te ne accorgi poi, perché ti scivolano via, no? Ti scappano questi giorni, questi momenti, queste, e quindi, no, voglio afferrarlo, voglio rincorrere ogni giorno, voglio godermelo, e, eh, che non passi via così velocemente, no? Ma voglio, voglio proprio afferrare ogni giorno, ogni momento, ogni situazione, voglio affrontarla, di petto, eh, bello o brutta che sia, ma, ma voglio esserci, avete capito, voglio proprio viverlo, eh, sì, ecco, 2022 da vivere, ecco, mi viene in mente, eh, come, subito d'impulso questo, da vivere, eh, senza limitazioni, senza nessun tipo di, eh, di ne, ma forse, avete capito, tutte quelle, no, vivilo, vivilo, il 2022, vivilo, e, eh, e niente, questo, eh, lo sapete che non sono per gli auguri, dico, ah, anche perché che balle, ora basta, eh, cioè, nel senso, non se ne può più, eh, cioè, arriviamo a una certa che, cioè, sentire solamente la parola auguri, veramente mi viene l'orticaria, però, eh, non è, appunto, un augurio, ma è un, eh, non lo so, è un consiglio, ecco, un consiglio, mi piace già di più, un consiglio, quindi, viviamocelo questo 2022, eh, viviamocelo e, eh, e coloriamolo soprattutto, coloriamolo, eh, perché noi non vogliamo che sia un normale, banale 2022 del cavolo, ma deve essere speciale, deve essere superlativo e deve essere, eh, assolutamente colorato, no sobrietà, no, 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 in questo canale non vogliamo sobrietà e normalità, ma differenza, noi lottiamo per la differenza, diversità, a manetta, e quindi, carichi come pallettoni, incorriamo, incorriamo, rincorriamo e afferriamo e viviamo questo 2022, sempre con i video della Michelina ColorFan. Vi bacio, un abbraccio e ci vediamo per il secondo video del 2022, al prossimo video! Happy Style! ColorFan Style! Iiii! Iiii!